Mascherine, guanti, distanza, percorsi segnati e cambio di location. La fiera antiquaria dopo il lockdown è così pronta a ripartire e lo farà al Prato di Arezzo. Sabato 6 e domenica 7 giugno torna infatti la manifestazione, bloccata per due edizioni dall'emergenza sanitaria con una planimetria sperimentale che sarà poi ripetuta anche a luglio e ad agosto. È una fiera un po' particolare perché si svolge al Prato perché è l'unico posto dove abbiamo verificato con il questore e con il prefetto che esistono le distanze per poter mantenere il distanziamento cosiddetto sociale. L'augurio è che questa città che ormai sono 16 giorni che è fuori dal contagio non si infetti ovviamente ma possa ospitare persone per cominciare a tornare a quella frequentazione gioiosa che è stata negli anni passati la fiera dell'antiquariato. Le versioni estive, quindi giugno, luglio, agosto e settembre saranno tutte e quattro su al Prato. Poi vediamo che cosa succederà, vediamo come si evolverà la questione dei contagi. Al momento attuale è la miglior cosa che si potesse fare. Ora l'importante è farla bene questa fiera, il che vuol dire accogliere le persone, mantenerci distanziati e fare in modo che ci sia un regime di affari che ci riaccontenti tutti rispetto al risultato economico generale che è quello di ritornare a essere una città viva e vitale. Saranno ovviamente introdotti dei rigidi protocolli di sicurezza che dovranno essere applicati dagli espositori. Le vendite infatti dovranno avvenire unicamente sul lato frontale della bancarella. Due, il numero massimo di operatori per ogni posteggio ed ovviamente di vieto assoluto di assembramenti. Inoltre gli operatori dovranno indossare guanti, igienizzare capi di abbigliamento e calzature oltre a mettere a disposizione dei clienti le soluzioni idroalcoliche. L'auspicio è comunque quello che l'edizione di giugno sia quella della ripartenza non solo per l'antiquariato ma per l'intero centro storico aretino che anche per questo fine settimana si trasformerà in una maxi isola pedonale. Tutti i fine settimana da qui fino a settembre, il venerdì e il sabato sera ci sarà un'isola pedonale più grande che per ora è sfruttata solo in parte, devo dire perché non tutti gli esercenti hanno allargato i posti di seduta. Ci ho parlato anche stamani mattina ma hanno detto che in futuro sarà a loro cura aumentare aumentando anche il personale a servire perché è evidentemente il collo di bottiglia alle persone che riescono a servire. Però credo che sia un'iniziativa lodevole perché al fine Arezzo può diventare veramente una città pedonale in questa parte bellissima del centro storico. Grazie Grazie